Benvenuti ragazzi, oggi siamo in una Bad Wars, però siamo in un server rumeno. Esatto, rumeno. Anche i rumeni giocano a Minecraft e fanno anche i server e sono meglio di quelli italiani. Quindi oggi partitona in un server rumeno. Qualunque cosa scrivano o succeda io non la capirò. Perciò in questo server ci divertiremo veramente tanto. Ho fatto una Bad Wars prima ed è andata abbastanza bene. È stata una battaglia veramente sudata, c'erano player veramente fortissimi, quasi divinità. Però per casualità due persone non si attaccavano e si difendevano. E niente, prima Bad Wars, primo team di rumeni. Nonostante abbiano unito le forze ho vinto lo stesso. Perché sono un grande giocatore. Adesso devo continuare a parlare fino a quando non finiscono le clip. Perché sennò rimarrebbe silenzio e non sarebbe molto bello. Perciò godetevi queste parole senza un senso. Grazie a tutti. Vi voglio bene. Spero di vincere anche questa partita perché sennò ci rimarrei veramente male. Il pack è il Taraz Pack Orange Version. Lo trovate in descrizione. Vi prego scaricatelo. Sto arrivando. Butta giù la pasta. Ok, non se ne è accorto. Non so come, ma non se ne è accorto. Oddio, ora sì. Bene. Dai, finiamo qua. Perfetto. Wow, 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 wow. Bellissimo, bellissimo. Questo server devo dire che è fatto abbastanza bene. Le hit registrano bene. I blocchi non laggano. L'unica cosa è che ogni tanto non si resettono le mappe. Tipo inizia la partita e ci sono già i ponti e blocchi sparsi. Questa è la spada in ferro. Fa malissimo. No, non mi fa piazzare i blocchi. Perché non mi fa piazzare i blocchi? Altra cosa che non va bene in questo server. Non fa piazzare i blocchi in alcuni punti. No, la ti... Uh. Ok, vieni, 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 vieni. No. Wow, ok, sei caduto. Perfetto. Dobbiamo inventarci qualcosa. Appena si distrae, un attimo, lo vado... Vado a prendere. Ok, adesso. Ok, ti prego. Con cosa hai guardato? Ok, ce l'ho. Bene. Via, 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 via. Perfetto. Non è molto forte. Dai, ti prego, muori. Perfetto, molto bene, molto bene. Purtroppo non dice i team che rimangono in tab. E... Non mi piace questa cosa. Andremo un po' di intuito. Lì vedo un player. Che colore è? Ok, è il giallo, è il giallo, è il giallo. Andiamo subito dal giallo. Vieni a fare veloce. Quello magari si sta facendo tutti i potenziamenti. A noi non piacciono i potenziamenti. Se no poi moriamo. Ok. Ha bardato tantissimo questo. Però non mi ha visto. Ok, non mi ha visto. Continuo a non vedermi. Cos'è quel materiale lì? No. What? M'ha visto, m'ha visto. Ok, confuso. Questi saltano e basta su questo server. Non conoscono altre tattiche. Vediamoci qua i materiali. Eccolo. No, non scappare, non scappare. Uh, c'ha l'ascia. Ed è anche forte. Quanta vita ha ancora? Come fa a morire? Ho vinto? Beh, quello? Quel player lì? Forse sta aspettando? Non lo so. Però abbiamo vinto. Bene. Ottima partita. Ok, siamo in un'altra partita. Che ovviamente vinceremo. Perché siamo dei top players. Mai una volta che ho i blocchi giusti. Mai. Mai, mai. Ok, questo qua sta arrivando. Cosa fai? Cosa fai? Cosa fai? C'è cattivissimo. Però ha finito di fare il ponte. Oh, da un bel po' di knock per questo. Ok. Perfetto. Muori. Muori. Vabbè, sì. Abbiamo distrutto il letto. Adesso lo uccidiamo. E così abbiamo fatto. Perfetto. Ottimi player. Veramente ottimi player. Ora che siamo al centro dobbiamo trovare... Oh, eccolo. Allora è stata una fortuna morire. Perché se no poteva distruggermi il letto. Era accanto a me e non l'ho visto. Non ha fatto quasi nulla. Christian. Christian, Christian. Stai calmo. Christian, calmo. Boh, è stato abbastanza facile. Qua salto ne basta. Non conosco... Non conosco un'altra tecnica. Assurdo. Però abbiamo vinto. Siamo bravissimi. Siamo... Siamo fantastici. Allora, il video è finito. Lasciate like. Iscrivetevi al canale. E mi raccomando. Entrate nel canale Telegram. E se avete voglia anche nel gruppo. Mi invito a scaricare anche le mie texture pack. Le trovate in descrizione. Quindi noi ci vediamo in un altro video. Ciao. Ciao. Sì. Kakashi. 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 Kakashi! Grazie a tutti.